Nelle competizioni è importante sempre arrivare, il traguardo è l'obiettivo principale per accumulare punti in vista di un campionato, è come una salita che arrivi fino alla vetta e per far questo ci vogliono tanti partner affidabili, l'affidabilità è fondamentale e la lubrificazione del motore è altrettanto importante e per finire le gare bisogna anche lubrificare per bene, noi con Eni questo è una cosa che ce l'abbiamo di spiro. In particolare in questo caso l'olio era costituito da delle soluzioni formulative che consentono di coniugare da una parte le prestazioni tradizionali di affidabilità richieste dai motori standard e in particolare da quelli di competizione e dall'altra di esaltarne le prestazioni attraverso un perseguimento accanito della affidabilità che è necessaria per poter esprimere il meglio nella competizione della gara. La moto deve avere un motore molto performante, per questo noi abbiamo optato per scegliere un olio che ci garantisca sia performance che affidabilità e nell'olio Eni iRide abbiamo trovato tutto questo per puntare al titolo mondiale con Max Biaggi. Grazie a tutti!